Così è un bell'effetto anche del notturno, forse diamo un po' di giallo, cosa ti pare? Sì, forse il giallo risulta più omogeneo. A me preme che si veda l'hype perché dà l'idea del futuro. Sì, questa è la prima pagina, la copertina dello speciale di Vita Trentina per i 90 anni di fondazione del settimanale. C'è la nostra storia, il nostro servizio, la nostra squadra attuale e poi abbiamo avuto un'idea che ha seguito il collega Augusto Goyo, no? Sì, abbiamo individuato 90 parole prese proprio dalle pagine di Vita Trentina e le abbiamo fidate da altrettanti autori, personaggi noti del mondo delle istituzioni, del volontariato, della società civile, che hanno così composto una sorta di piccolo glossario che crediamo arricchisce ulteriormente questo numero speciale. La copertina è pronta Liviana, si può dare il classico si stampi? Sì, salviamo. Anche il fotografo Zotta sarà contento.